che cos'è il retinoblastoma e chi colpisce il retinoblastoma è il più frequente tumore dell'occhio che si sviluppa nei bambini è un tumore importante da riconoscere perché la malattia oculare non curata in tempo esce dall'occhio colpisce altri organi e può portare alla morte dei bambini come si interviene sul retinoblastoma il trattamento del retinoblastoma è complesso infatti lo scopo fondamentale è salvare la vita del paziente poi conservare l'organo ossia l'occhio e se possibile conservare anche la vista che è un po' l'opposto di quello che si fa normalmente in oculistica in cui il nostro obiettivo chiaramente è migliorare la funzione visiva del paziente questo infatti è una problematica oncologica che si manifesta in primis nell'occhio e come tale va trattata